Sono Emanuela Truffo, sono avvocato, socia dell'estudio legale Iapobacci. Mi occupo di proprietà industriale ed intellettuale e sono al Salone del Gusto per la madre 2024, invitata dalla Camera di Commercio per discutere delle novità in materia di denominazione di origine e di indicazione geografica. Nel maggio di quest'anno è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo che ha sensibilmente ampliato le possibilità di tutela delle denominazioni di origine, sia al momento ontologico, quindi nella loro costituzione, sia nel momento della loro vita nel mercato. Come sappiamo l'Italia insieme alla Francia detiene oltre il 50% delle denominazioni di origine europee ed è dunque un tema di grande attualità per il mercato agroalimentare e non solo, proprio perché abbiamo avuto con il nuovo regolamento il riconoscimento delle indicazioni geografiche anche per le attività artigianali.